Buongiorno a tutti i maestri e allievi della scuola Arthur Murray di Firenze! Siamo nella terza settimana del nostro International Dance Festival che dedichiamo al giro del mondo in 80 balli. E questa settimana la dedichiamo alla nostra terza tappa che è Siviglia! Infatti i balli che insegniamo questa settimana in modo speciale sono il passo doble, il bolero e il colore che è di moda è il rosso, rosso fuoco, rosso passione. È una settimana dedicata alla nostra passione, all'amore per il ballo. E parlando di amore stiamo riempiendo anche questi cuori con la domanda della settimana. La domanda è tu che cosa ami dell'Arthur Murray? Io voglio condividere con te quella che è la mia risposta anche perché questo lo stiamo riempendo sia gli allievi che gli insegnanti. Allora, dell'Arthur Murray io amo il rapporto con le persone. Ho l'opportunità di conoscerle meglio, di capirle, di aiutarle a crescere e a realizzare i loro sogni e con essi anche i miei. Questo è qualcosa che io amo tantissimo del mio lavoro, che amo di questa esperienza straordinaria chiamata Arthur Murray. Ora, la domanda importante è tu, sì tu, che cosa ami dell'Arthur Murray? Prendi subito nota, scrivetelo subito, ora che sei ispirato, ispirata, scrivilo subito e quando arrivi a scuola te lo segni subito, nel tuo cuore. Sono curioso, voglio sapere che cosa batte forte nel tuo cuore. Ci vediamo a scuola, un bacione, ciao! Ciao!